Buonasera, se lei è qui molto probabilmente è perché sa qualcosa in merito alla rapina che c'è stata pochi giorni fa, alla zecca di stato. Sono stati rubati tutti i trigger che abbiamo collezionato negli ultimi 30 anni. Quindi capisce che si sta parlando di qualcosa di un inestimabile valore. Ha sentito la notizia in televisione? Non mi sorprende, ma io credo che lei sappia qualcosa di più rispetto a quanto detto al DG. Mi dica, dov'era la sera del 7 febbraio? È sicuro? C'è per caso qualcuno che può confermare ciò che sta dicendo? Quindi mi sta dicendo che il giorno in cui sono stati rubati tutti i trigger e i tingles, lei era a casa a guardare un video ASMR. Che piacevole coincidenza, vero? Capisce bene che dal momento in cui uno possiede tutti i trigger e i tingles dello Stato è in grado di esercitare una forza abbastanza importante. Diciamo di sì, così, il potere su tutti i cittadini. Io però le voglio dire che, secondo quelle che sono le mie indagini, lei quella sera non era a casa. No, abbiamo un video di lei proprio nelle zone della zecca di Stato. Vuole ritrattare quanto detto prima? Ah, giusto. Si è scordato di dirmi che è andato a fare la spesa di sera. Carrefour Express. Si ricorda che cosa ha comprato per caso? Capisco. Lei sa che la falsa testimonianza aggraverà la sua pena? Bene. Vuole un avvocato. Capisco. Gli anni sarà dato un altro ufficio. Ma io direi che ho finito con le domande. Perché so che lei ha qualche indizio. Qualcosa che mi potrà far capire meglio. Che cosa è successo quella sera? Non vorrei saltare a conclusioni affrettate, ma sono abbastanza sicura che lei c'entri qualcosa con questa rapina. Non so se sia un palo, un complice o semplicemente colui che hai dato il colpo. Ma lo scopriremo presto. Ora andrò ad effettuare una perquisizione. Dopodiché andrò a cercare delle eventuali tracce che qualche trigger si può aver lasciato su di lei. E vuole fare una dichiarazione. E' consapevole che se mi venisse incontro, mi dovesse venire incontro, la pena sarebbe leggermente ridotta. A suo rischio e pericolo andiamo a vedere se ha nascosto per caso qualcosa nei capelli. Sì, la maggior parte dei ladri in questo settore nasconde i triggers, i tingles nei luoghi più disparati possibili. Io sento che i tingles sono davvero minuscoli, c'è bisogno di particolare attenzione. E' bisogno di andrò ad utilizzare una lente di ingrandimento per capire meglio se c'è qualcosa che il mio occhio riesce a vedere effettivamente nonostante lei sostenga di non centrare a nulla noto delle rimanenze di tingles sul suo viso deve sapere che i tingles hanno dei numeri di serie esatto e ogni video ha appunto la capacità di provocare dei tingles contrassegnati dai numeri di serie del video stesso e su di lei ci sono dei tingles che sono arrivati da dei video top secret nascosti proprio nella zecca di stato ha qualcosa da dirmi ora? come cambiano velocemente le sue risposte? capisco? continui per favore certo, certo, certo ha trovato questi video su internet su youtube per caso perchè sono abbastanza sicura che su youtube non ci siano ah piratati certamente se vuole continuare a prendermi in giro prego prosegua prosegua pure capisco sa che anche questo comunque è un reato perseguibile penalmente lo so lo so comunque meglio di rubare alla zecca di stato sto pensando ovviamente capisco capisco non si preoccupi perchè la verità verrà a galla direi di continuare direi di continuare direi di continuare allora spero che la luce non le dia fastidio ma anche se fosse forse un po' se lo meriterebbe dato ciò che ha fatto questo cerchiamo bene cerchiamo in ogni fessura ora andrò a cercare direttamente nelle sue orecchie vediamo vediamo cosa possiamo tirare fuori ecco qui ho trovato qualcosa mi dica questa cosa ci faceva nel suo orecchio per sbaglio quando si stava pettinando capisco capisco perchè non ha pensato di andare all'ospedale caso strano questa è una spazzola unica al mondo mi pare che sia stata prodotta nel 2007 con legno di cedro o di rame non può più nascondersi questo è un pezzo unico che si trovava proprio all'interno del museo della zecca di stato deve sapere che questa è la spazzola che riusciva a far venire i tingos e i brividi alla regina Elisabetta ogni sera quindi capisce bene che il suo valore è inestimabile ed è difficilmente replicabile un prodotto simile è sicuro di ciò che sta dicendo? lo sa che tutto ciò che viene detto da lei è registrato quindi una volta in tribunale non potrà più ritrattare su quanto detto certamente quindi ha trovato questa spazzola in un set su amazon devo dire che lei è una persona veramente fortunata video top secret spazzole che arrivano direttamente a casa tua con un pacco amazon chissà cos'altro chissà cos'altro riuscirà a dirmi visto che abbiamo trovato quella spazzola in questo orecchio vediamo che cosa troviamo nell'altro perché sono sicura che rimarremo sorprese vero? benissimo ecco qui ecco qui ma tu guarda abbiamo uno squish anche questo direi che è qualcosa di particolarmente ricercato oggigiorno mi dica certo sono pronta a sentire qual è la sua scusa come mai aveva uno squishy nascosto dentro l'orecchio certamente certo è capitato anche a me ovvio si l'ha utilizzato come tappo per le orecchie per dormire meglio e anche io a volte soffro di insonnia a casa soprattutto in questo periodo dato che sono stati rubati tutti i triggers si sta mettendo nei casini da sola continuando a giustificare tutto ciò tutto ciò poveri noi dove siamo finiti andiamo a vedere andiamo a vedere se troviamo qualcos'altro in questo modo in questo modo in questo modo adesso ecco qui ecco qui un altro pezzo rarissimo oggigiorno un ice globe questo devo dire che è uno dei pezzi forti mi dica dove l'ha trovato in particolare questo in un negozietto dell'usato veniva venduto come souvenir 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 di quale posto in particolare interessante non riesco a capire il collegamento però assolutamente si mi freddo di lei mi faccia controllare bene assolutamente si suona esattamente come quello che avevamo e che ci ha sottorubato vediamo vediamo che certamente è lui è assolutamente lui ora ora sa per caso come giustificarsi certo non si preoccupi vediamo se troviamo qualcos'altro andiamo con un altro pennello perché mi serve qualcosa di un po' più importante eccolo qui lui è proprio il prescelto ma dov'è rimuovere ciò che abbiamo catturato dagli altri personaggi che erano coinvolti in altre rapine direi che ci siamo ciò ecco ecco un altro come sa oggi giorno il legno è davvero difficile da provare per via della deforestazione e qui in particolare abbiamo un tronco di oserei dire da suono oserei dire 60 anni fa taglio perfetto proprio perfetto proprio suono tutto ciò che si ricerca per l'SMR per l'SMR questo è il legno perfetto e vorrei sapere cosa ci faceva questo nascosto e lei e lei certo voleva creare Pinocchio ha guardato il film di Guglielmo del Toro ultimamente molto triste molto triste vero anche io pianto però voglio sapere veramente cosa voleva farci con questo legno perfetto guardi guardi io sono sicura che lei è il ladro che stiamo cercando non ho più alcun dubbio ora andrò a prendere altri altri indizi altri tracce di tingles preleverò esattamente tutto ciò che ha nascosto e poi la consegnerò e sono sicura che non vedrà più la luce del sole per parecchi anni ciò che ha fatto è deplorevole privare le persone del rilassamento non ho neanche parole per descrivere ciò che provo in questo momento ma sono sicura che sarà in grado di farlo il giudice al momento della sua pena direi che qui è tutto potete prenderlo assolutamente sì è stato un piacere parlare con te ci vedremo in tribunale lì 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 lì